A stigmatizzare l'iniziativa del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università d'Annunzio di Chieti sugli inutili catastrofismi in tema di cambiamenti climatici, il WWF, che non nota per l'addirittura di celebrazione delle fake news. Ma le vere fake news, secondo gli illustri studiosi intervenuti stamane all'auditorium del Rettorato, sono quelle diffusi negli ultimi anni, secondo le quali il cataclisma definitivo sarebbe già dovuto avvenire. Ma non è stato così. Intanto un paio di curiosità. Sapevate che circa 20.000 anni fa il Po sfociava tra San Benedetto del Tronto e Pescara? Che Chieti e Pescara erano sott'acqua, a 20 km di distanza dalla terraferma, e che le isole Tremiti erano delle colline? Questo per indicare che dalla modifica dei paesaggi nel corso dei millenni si comprende anche quanto la storia del nostro pianeta, che va vista in un contesto molto più ampio di qualche secolo, sia caratterizzata da periodi più o meno caldi. Si chiamano periodi olocenici. Secondo le statistiche durano 12.000 anni. C'è il grande periodo olocenico nell'impero romano e quello del Medioevo, in contrasto con la piccola era glaciale del 1600. Come a dire che è la natura determinare i cambiamenti climatici e non l'uomo. Un esercizio che faccio fare ai miei studenti in aula è di studiare i giornali. In tre mesi ci sono 50 notizie che dicono che ci sarà una glaciazione e 50 notizie che ci sarà un surriscaldamento. Questa è una informazione scorretta. Io insegno ai miei ragazzi che la scienza non si fa sui giornali. Tesi supportata dalle relazioni del noto geologo ed ex rettore Roberto Crescenti, da altri luminari e dal noto professore di meteorologia dell'Università di Napoli, Nicola Scafetta, che sulla base di studi statistici ha sottolineato l'assoluta inaffidabilità dei modelli matematici, quali in passato hanno prospettato uno scenario assolutamente smentito dai fatti. Il professor Marcello Buccolini, direttore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Annunzio, si dice profondamente rammaricato per le critiche, parlando di un'iniziativa non ideologica, ma prettamente scientifica. Siamo in una fase di scaldamento, questo credo che sia innegabile. Magari sentire le varie opinioni sulle cause, ma soprattutto su che cosa fare. Nessuno nega i cambiamenti climatici sono dovuti alla natura. Tant'è vero che tutti gli studi di tutta la grande maggioranza degli scienziati mondiali, praticamente tutti, dicono questa cosa qua. Il problema è che i cambiamenti climatici attuali sono favoriti anche dall'uomo e che i tempi di accelerazione che ci sono in questa fase storica non si sono mai registrati in passato.